eccoci tornati in diretta amici di le fonti tv e allora l'abbiamo anticipato poco prima della pubblicità apriamo una parentesi importante in questo blocco per parlare di un settore un settore in particolare che ha sempre rappresentato una parte importante dell'indotto del nostro paese che ovviamente insieme ad altri settori con tutte le crisi che perché purtroppo dobbiamo dirlo questa questa è la narrazione di quello che è accaduto in questi anni tutte le crisi degli ultimi anni è stato penalizzato insomma non è stato l'unico però vogliamo cercare di capire cos'è accaduto come si è voluto e che cosa e a che punto siamo arrivati oggi lo leggete in sovrimpressione turismo in italia dati indotto ovviamente partiremo un po da discorsi generali per poi entrare nel dettaglio chiaramente la prima crisi che ha penalizzato il settore del turismo è stata quella del covid quando tutti eravamo bloccati addirittura non potevamo uscire dalla porta di casa nostra figuriamoci ma anche dopo diciamo che le cose si sono trascinate anche quando finalmente abbiamo ripreso a viaggiare c'è stato un periodo in cui c'è stata paura di farlo no proprio sempre per il covid poi finalmente abbiamo cominciato un po a lasciare da parte i timori ed è arrivata la crisi dei prezzi quindi con tutti i prezzi che sono aumentati con l'inflazione insomma cerchiamo di capire se oggi la situazione un po cambiata se voi googlate come vi dico spesso appaiono anche notizie confortanti della serie turismo la crisi è finita e allora io ho invitato in studio ho chiamato in studio per cercare di capire di più Stefano Pompilissio di Veratur che ringrazio per essere qui mi fa molto piacere ritrovarti Stefano ben trovato grazie buongiorno da dove vogliamo partire facciamo così partiamo da quello che ho detto adesso ho letto turismo la crisi è finita è così e poi naturalmente entriamo nel dettaglio ma diciamo che dopo due anni veramente pesanti di pandemia dove siamo rimasti di fatto chiusi nelle nostre case possiamo dire il turismo è ripartito fortemente abbiamo assistito a un'estate straordinaria dove c'era veramente la corsa a trovare la vacanza la corsa a capararsi quella vacanza sognata nei due anni d'altra parte il turismo come sapete è stato uno dei settori più colpiti in assoluto abbiamo perso l'ottanta per cento però in questo 2022 l'ottanta per cento il turismo generale nel caso specifico dei tour operator ma anche della parte aviation le compagniere che hanno avuto veramente un momento complesso in questi due anni ha perso circa l'ottanta per cento ebbene il 2019 2022 lo ricorderemo per un anno di ripartenza si è recuperato più o meno circa il 70 per cento di quello che facevamo nel 2019 la crisi dei prezzi e dell'energia sta influendo pesantemente come tu giustamente raccontati però voglio anche essere un po ottimista anche perché il settore turistico è uno di quei settori che io lo posso dire incomprimibile abbiamo vissuto in questi ultimi vent'anni tantissime crisi io ricordo le due più importanti l'11 settembre del 2001 piuttosto che la guerra del golfo del 92 dove il settore si bloccò completamente ebbene nonostante questo mesi dopo siamo ripartiti il covid è stata la più forte certo in assoluto eppure un'estate come il 2022 non la ricordiamo cioè abbiamo recuperato tanti numeri rispetto al 19 che al di là poi del periodo proprio di restrizione di lockdown c'è stata la coda quella in cui effettivamente avremmo potuto viaggiare come prima ma molte persone non lo facevano per la paura del contatto per la paura non solo di del contatto in realtà anche di trovarsi magari in un altro paese che prevedesse delle regole differenti di rimanere in qualche modo bloccato lì insomma c'era proprio questo timore no sì diciamo che il 2021 è stato esattamente l'anno contraddistinto da quello che tu hai raccontato fortunatamente la farnesina da febbraio da marzo 2022 ha aperto completamente il mondo da lì la gente ha iniziato a tornare a viaggiare sul mete di lungo raggio ricordo a tutti che oceano indiano piuttosto che carai vi mete storicamente molto forti nella nella parte invernale sono rimaste chiuse per tre anni e finalmente questo inverno inverno 22 23 sarà l'inverno secondo me della ripresa piena torneremo finalmente a tornare a fare un capodanno a zanzibar piuttosto che un natale alle maldive questo è sicuramente un risultato importante mi darei qualche suggerimento allora per sicuramente per mete turistiche che sono sia richieste gettonate ma anche interessanti intanto chiedo visto che l'hai anticipato alla regia il terzo titolo dove ci ho voluto mettere una domanda tu hai parlato del 2022 come l'anno della ripresa per il turismo in realtà mi stavo chiedendo se il 2023 forse perché siamo comunque a fine anno se effettivamente il 2023 sarà l'anno della ripresa che magari consacrerà insomma questa ripresa che è già iniziata quello che ci hai detto tu stando quello che c'è tutto nel 2022 sì sarà un anno ancora positivo però con tutta onestà non credo che recupereremo tutto il gap 19 nel 23 credo che questa differenza possa essere completamente rientrerà nel 2024 il 23 sarà ancora un anno di consolidamento purtroppo i primi dati economici che ci arrivano questa crisi ed energetica importante che sta colpendo il paese ma anche il caro prezzi viaggiare ricordiamolo non è la costa il 15 per cento in più in alcuni casi anche il 20 biglietti aerei con voli di linea che aumentano anche di cifre importanti pertanto non diamo per scontato di raggiungere completamente io credo che il 24 torneremo a fare quello che facciamo nel 2019 come volume generali del settore turistico è che poi corrisponde un po anche con l'anno in cui si parla di finalmente un'inflazione che tornerà nella norma più vicina insomma al famoso 2 per cento che la media delle banche centrali finché chiaramente i prezzi saranno così alti finché purtroppo la situazione delle famiglie delle imprese sarà penalizzata da questo caro prezzi che colpisce proprio anche i beni di prima necessità purtroppo tutte le spese superflue mi spiace dirlo nel senso che poi anche il viaggio in sé in una situazione economica più florida non è una spesa superflua perché riguarda il nostro benessere no come tutto del resto però chiaramente poi le famiglie si trovano a dover gestire il budget familiare che si è ridotto perché il potere d'acquisto si è abbattuto per questa per questa situazione quindi comunque questo sta pesando ecco questa è la crisi covid l'abbiamo analizzata crisi dei prezzi e quindi inflazione sta pesando pesando anche perché se guardiamo poi le materie prime troviamo un petrolio che da un anno all'altro ha raddoppiato i suoi costi io ricordo novembre 21 vale 21 65 dollari al barile siamo arrivati a luglio 22 che ne valeva 130 il dollaro è passato da 1,20 a 0,97 sono piccole ma importanti variabili che fanno evidentemente lievitare il costo del viaggio noi siamo legati a questi due fenomeni dollaro da una parte e carburante dall'altro certo e poi c'è anche il tema proprio dell'italiano che in questo momento tende a tenere i soldi fermi e a risparmiare vabbè risparmio c'è sempre però in questo caso il risparmio è molto legato proprio alla paura di non avere poi i soldi per far fronte alle necessità quindi insomma l'aumento dei carburanti ti preoccupa? preoccupa sulla parte invernale soprattutto perché un viaggio a lungo raggio ha uno componente molto forte di costo del biglietto aereo aumentando il carburante potrebbe ancora aumentare quello che voglio tranquillizzare è col consumatore lato vera tour noi abbiamo un blocco a prezzo che vorrei raccontare perché ti dà la possibilità infatti dacci anche la vostra sensazione dal vostro osservatorio interno sì allora abbiamo detto carburante sicuramente in primis come osservatorio però abbiamo trovato questo sistema che piace al consumatore dove blocchiamo il prezzo c'è una piccola fee da pagare che è una quota a gestione oneri e valute una volta pagata quel piccolo fee di ingresso anche se il dollaro o il carburante dovesse raggiungere livelli importanti il prezzo sarà bloccato il turista non pagherà un euro in più insomma questo non è male intanto io mi sto guardando queste immagini che scorrono che almeno mi fanno sognare quindi dammi già una meta che secondo te può essere interessante così poi parliamo anche di quelle che sono le previsioni per le feste natalizie perché poi anche questo è un momento importante dell'anno noi quando pensiamo ai viaggi pensiamo all'estate però un altro momento clou è quello è proprio il Natale il Natale e Capodanno intanto una meta che consiglieresti? allora sulla parte invernale sulla vacanza invernale 7 ore di volo dare Zanzi per in assoluto e anche l'isola di Capoverde è fantastica siamo nella parte dell'Africa un posto straordinario sono delle piccole isole chiamate isole di Capoverde dove Sal è l'isola principale sono 5 euro e mezzo di volo con un costo ancora con un apporto a qualità prezzo eccellente consiglio Zanzi per da una parte e Capoverde dall'altra chi può le Maldive con degli atolli fantastici ecco le Maldive hanno avuto un incremento di prezzo importante lato Natale e Capodanno dove ahimè dobbiamo essere e raccontare che c'è stato un tutto esaurito abbiamo avuto una prevenita fortissima ecco mettiamo regia grazie turismo e rincari fotografia del settore così capiamo anche no? questo binomio turismo e rincari cosa sta portando a fare insomma chi è interessato a viaggiare quindi a partire proprio dal periodo di riferimento che è questo quello invernale Natale e Capodanno su Natale e Capodanno si prevedono oltre 20.000 italiani che andranno a Sharm Sheik si ritorna alla media egiziana perché? perché tre ore di volo il sole tutto l'anno e possiamo dirlo l'ottimo rapporto qualità prezzo ha portato tantissimi italiani quest'anno a raggiungere questa meta non solo noi ma tutto il comparto turistico sta facendo veramente dei numeri dei volumi importantissimi su questa straordinaria meta che non muore mai alla fine Sharm va sempre di nota spesso viene scelta proprio anche perché costa meno non è che possiamo nascondere le difficoltà che ci sono oggi e a parte il fatto che è un posto sicuramente molto bello proprio per il mare anche la vicinanza e poi insomma il fatto di essere sicuri di trovare bel tempo perché quella è una delle prime cose che si guardano perché se magari si va una settimana in vacanza e c'è brutto tempo tutta settimana ci si mangia un po' le mani però appunto è soprattutto il prezzo che rimane effettivamente molto competitivo e che a volte non riesce proprio a a essere comparabile con altre mete che sono anche più belle ovviamente che hanno dei costi però differenti ma guarda io ho fatto recentemente un paragone tra una settimana bianca in un albergo normale a Capodanno e una settimana compreso il volo a Charme Sheik e ti assicuro che ci sono 30-40% in meno di differenza andare in Egitto che non andare in Italia capisco il tema l'energia elettrica l'innevamento artificiale che comunque alla fine ha dei costi importanti tutta la parte di riscaldamento però oggi ahimè costa molto meno fare questi viaggi a tre ore di volo in un posto dove trovi il sole come raccontavi tu ci sono 27 gradi previsti per Natale ormai avviene da 5-6 anni e la gente ne sceglie veramente con le famiglie è un viaggio molto di famiglia sia Natale che Capodanno è un viaggio di famiglia è vero sono d'accordo ma più in generale Stefano se dovessi chiederti come sta cambiando il mondo del turismo perché poi sappiamo che quando ci sono delle situazioni che scombinano un po' le carte quindi la crisi eccetera si riparte magari in modo diverso magari anche in modo come dire con un approccio più positivo o magari con un approccio più evolutivo che accelera dei processi che magari erano lì latenti se ci sono dei nuovi trend nuove esigenze cosa avete verificato da questo punto di vista? ma abbiamo visto che dopo la pandemia la gente ricerca l'esperienza sempre di più il viaggio tailor made il fatto su misura per il cliente un viaggio combinato che mixa mare con cultura è in assoluto la meta più richiesta ma posso dirti in primis la cosa che la gente ricerca è in assoluto una cosa la qualità si tende a spendere di più ma avere la qualità nella vacanza a volte sentiamo che poi vanno a finire le situazioni peggiori anche le associazioni dei consumatori di casi disastrosi in cui ovviamente soprattutto quando si fa da soli si vedono delle fotografie stupende diciamo che quasi mai corrispondono alla realtà però se voglio dire se si differisce in qualche cosina non importa a volte invece si trovano delle realtà disastrose e lì magari si spendono anche dei bei soldini la qualità è comunque al primo posto lo vediamo nelle ricerche pensa nel nostro mondo stiamo sempre di più ricercando strutture upscale che possono intercettare clienti il lusso stranamente o per fortuna sta tornando veramente a proposito del lusso Stefano ecco cosa volevo chiederti perché abbiamo visto dei dati analizzando i vari settori che riguardano proprio il lusso che non perde mai pezzi diciamolo così nel senso che rispetto al trend ovviamente un po' ribassista in generale che parte dal mercato e dei vari settori proprio per la crisi in corso il lusso prevede non solo non prevede un ribasso ma addirittura un rilancio esatto un rilancio e io sinceramente l'ho detto anche in altre occasioni visto che ci sei qua tu ne approfitto perché tu magari mi puoi dare una risposta ancora più precisa io ovviamente leggo molto il turismo al lusso ovviamente per un certo tipo di turismo perché anche il turismo è fatto da diverse situazioni però non so a Milano ma nelle grandi città chi frequenta i quartieri del lusso della moda eccetera i turisti che arrivano da fuori Italia ecco tu come vedi questo aggancio e gancio ma è un fenomeno in evoluzione completa cioè se una cosa può trainare l'altra perché poi appunto se il settore del lusso non perde mai pezzi magari può aiutare anche il settore del turismo a non perderli lo vedo anche nella mia città che è Roma dove nell'ultimo anno hanno aperto dieci strutture a 5 stelle e non capitava a Roma da sempre ecco dieci strutture in una città comunque complessa molto visitata da turisti di tutti i generi evidentemente il lusso il fashion sta attainando tantissimo nel nostro osservatorio stiamo vedendo che le strutture di categorie superiori sono quelle che vengono vendute prima stiamo immaginando adesso un'apertura in Africa di un nuovo risorso in una nuova destinazione categoria lusso a 5 stelle che va a intercettare evidentemente un cliente che ha bisogno di trovare appunto nel lusso e nella particolarità l'esigenza per il suo viaggio è certo quindi insomma diciamo che ecco stavo proprio cercando la percentuale precisa beni di lusso si parla di un 2022 da super record ricavi in aumento del 22% quindi insomma è un dato che ci fa pensare certo soprattutto se mi sto a confronto con altri il mercato vola a 1400 miliardi tanti stranieri però ecco ci tengo a dirti che sono più stranieri che noi italiani io lo vedo a Roma ero settimana scorsa a Londra in una convention e vedevo che c'è nelle aree di My Fair di Londra veramente una serie di ristoranti nuovi che hanno aperto strutture alberghiere fashion tantissime boutique di alto livello evidentemente questo consumo questo modo di fare turismo sta prendendo piede speriamo che anche i nostri italiani possano godere di questa ripresa e questo modo di viaggiare a 5 stelle certo ti chiedo le ultime due cose che poi si combinano con quello che già stavamo dicendo il rischio del fai da te sempre negativo ci mancherebbe bisogna avere un po' di mestichezze di razziocinio soprattutto magari confrontare ma lo dico da utente normale voglio dire che molto spesso cerca online le situazioni ti chiedo se oggi intanto ci si rivolge ancora molto a tour operator e quindi a proprio viaggi più organizzati che poi sono proprio essenzialmente viaggi organizzati ma quasi e poi se le prenotazioni proprio a causa della crisi dell'incertezza economica vengono più sottodata sperando magari di trovare i famosi last minute quindi prezzi più convenienti qual è la tendenza da questo punto di vista? diciamo che con la pandemia abbiamo tutti imparato a vestirsi attraverso il web a comprare addirittura la scena attraverso un delivery e abbiamo anche di più imparato a comprare il viaggio attraverso il digital lato nostro noi vendiamo circa il 96% attraverso le agenzie di viaggio e solamente un 4% attraverso diciamo il portale direttamente al pubblico però c'è una tendenza sui viaggi evidentemente low cost una percentuale molto alta utilizzare compagnieri low cost piuttosto che motori di ricerca a cercare il prezzo basso la tendenza purtroppo rispetto agli anni scorsi cala un po' la prenotazione anticipata e fa spazio a un viaggio sotto data abbiamo visto che questi ultimi 4 mesi hanno visto un arco temporale una finanza temporale di appena 25 giorni della data di partenza della prenotazione cosa che si è ridotta moltissimo nel 2019 c'era un 60% di prenotazioni che avvenivano con forte anticipo crediamo e speriamo che questo fenomeno possa riportarsi ai livelli del 2019 tranquillizzandosi anche la situazione economico-finanziare che in questo momento tocca l'Italia in maniera pesante quindi è meglio sempre prenotare un po' prima? sì te lo dicevo ma che prenota sempre all'ultimo però no all'ultimo alla fine paghi di più perché le nuove tecniche di pricing ci dicono che prenotare in anticipo ti dà la possibilità di poter risparmiare si chiamano yield management arrivi alla fine visto che il risparmio in questo momento è sicuramente uno dei concept più seguiti e più di moda esattamente beh allora questo serve anche a me chissà se mai riuscirò in anticipo si spende ancora meno in anticipo si spende ancora e si scelgono i posti migliori e le camere migliori soprattutto cercherò cercherò di entrare in questo mood è che a volte anche la vita frenetica non solo che riguarda me ovviamente che riguarda tutti non consente di fare troppi progetti a lungo termine sperando che non sia invece dovuto a una crisi economica che ci auguriamo tutti possa terminare grazie a Stefano Pompili CEO di Veratur naturalmente insomma per tutte le informazioni il team è a disposizione insomma grazie anche per queste immagini stupende che ci hanno fatto un po' sognare e vabbè ti farò sapere quale sarà il mio prossimo viaggio allora voli siamo qui grazie a tutti a presto a presto Grazie.